buongiorno e bentornati in autosmile oggi vi presentiamo questa vettura unica adesso vi spieghiamo perché unica perché è una fiat bravo allestimento dynamic perciò full optional però ha solamente 11.800 km certificati è tagliandata ed è revisionata e adesso andremo alla scoperta circa in lega da 16 pollici molto bella di questa colorazione ovviamente è un 1.6 turbo diesel gtd 120 cavalli con il fapper col filtro antiparticolato è del settembre 2010 ed è unico proprietario ha un prezzo shock veramente da entry level però è anche vero che ha solamente 11.800 km fari fendinebbia guardate com'è tenuta ecco noi speriamo sempre che dalle foto e dai video si possa capire le condizioni di questa vettura non è grandinata niente grandine iniziamo a visitare l'interno dal bagagliaio molto spazioso sedili posteriori sdoppiabili tutto rivestito in moquette e l'interno i sedili adesso capirete anche da quelli anteriori come sono tenuti 11.800 chilometri ripeto del 2010 già euro 5 col filtro antiparticolato perciò è esente da tantissime restrizioni e tre persone anche di statura medio alta stanno comode sedute sul divanetto posteriore perché vedete lo spazio per le gambe ora ditemi voi se trovate delle imperfezioni in questa vettura guardate anche il sedile lato guida specialmente sulla seduta d'ingresso è incredibile incredibile come è stata tenuta questa vettura come è stata conservata anche il sedile passeggero è regolabile in altezza oltre al sedile di guida perché questa qui è l'allestimento dynamic specchietti regolabili elettricamente con questo tasto e i vetri elettrici vi ricordo che questa vettura è già dotata di sei airbag chiave doppia chiave ovviamente disponibili per l'esattezza 11.968 chilometri ad oggi alla data del video comunque comandi al volante della radio del computer di bordo volante molto bello in pelle sagomato guardate anche il volante come è tenuto a conferma del chilometraggio questa è veramente un'occasione molto unica e rara autoradio con lettore cd una bellissima plancia di questa italiana con un bel design naturale climatizzatore cambio sei marce con il pomeriggio del cambio in pelle speriamo di essere riusciti a trasmettervi la qualità e la conservazione di questa vettura cuffia del cambio, pomello proprio com'è tenuta e poi il cuore, questo gioiellino questo fantastico 1.6 turbodiesel multijet 16 valvole 120 cavalli vettura già tagliandata ovviamente oltre tagliando anche la revisione già effettuata e ricordo che il motore è già 1,5 euro col filtro perciò è esente da tantissimi blocchi nazionali riassumendo questa Fiat Bravo 1.6 multijet 120 cavalli euro 5 col filtro allestimento dynamic in questa bellissima tonalità grigia vi aspetta qui da noi in AutoSmile ma ricordatevi che poiché ha solamente 11.900 km originali certificati pur essendo del 2010 è sempre meglio chiamarci prima di venire a provarla e visionarla noi vi invitiamo a venire perché è un'occasione incredibilmente bella e succosa perciò contattateci e vi aspettiamo è un'occasione Grazie a tutti.